ciao ragazzi e benvenuti questo video sono alessandri alex e bentornati nel mio canale siamo qui oggi appunto per registrare il secondo episodio della nostra serie di braw stars e oggi sono da solo come il primo episodio vedrete tutte le coincidenze delle coppe che ho 2 1 2 1 grado 12 coppe 2 1 1 degli eventi 17 1 soldi 1 gemme 1 a come se non bastasse più di gettoni a 1 h 1 ora ma è una notizia vabbè non siamo qui per pensare all'1 delle casse 87 su 100 ma siamo per pensare alle coppe che deve essere non 12 ma 11 13 tra poco arriveremo siamo pronti ragazzi per giocare questa partita ovviamente per la serie in compagnia mia ci sarà pippo che non è il suo renome pippo ma un altro che si chiama sb sb stick in basso 08 che sarà presente con noi dai prossimi episodi nel iniziare la serie anche insieme a lui e gustars forse anche lui fa un suo canale con i miei video gli rimanderò a lui e lui registrerà ea lui porterà da quel momento la sua serie a me è già partita ieri sera e ne sono fiero la serie a quanto pare non l'avete ancora vista quindi non sta andando di in moda bruce stars questo pavine mamma mia sprecato una super cavolo però questo carl è veramente forte qua c'è qualcuno perché l'ho visto prima brawler è veramente un brawler aia nooo terzo foto non ne sono neanche accorto tricoppe raga no vabbè tricoppe se lo facciamo a far le tricoppe vedi che c'ho un livello in più di te non mi puoi trovare a chillare c'ho un livello in più di te fratello traditore della patria aspetta 60 hp e vabbè che sfiglio no io però dai non ci non entrare no sto facendo video ma mia ragazzi però porca miseria e vabbè no porca miseria no 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 Grado 13 gold Finalmente ragazzi Credo che ogni episodio Cercherò di far salire Di un grado un ruler Quindi ragazzi domani Un nuovo episodio Cerco di far salire Di grado Il primo Ci provo adesso Se per me fallisco Eh vabbè Questa è scema Non è scema Sono io che sono scemo Smettila di laggare Telefono con le mie palle No ragazzi Questa app me la registrallo Devo registrare video In modo migliore Perché la qualità dei miei video Quando registro Voglio che sia alta Sei stupido Proprio nell'animo Tu eh E vabbè Devo morire Forza io Ci godo Che pure lui è morto Ma dai però Non è giusto Proprio Non è Non è per niente giusto Se viene da me È proprio Stru Nell'anima Eh vabbè Proprio a me Prende Ma tu devi morire Devi morire Nella vita reale E dai Ma che cacchio Ma dove picchi No vabbè Si ha perso coppe Ragazzi allora Questo è Mamma mia La mia voce Fa cagare Questo è il primo E ultimo episodio Di questa serie È il mio primo E ultimo episodio Perché Questo mi sa Non mi sa che sarà L'ultimo episodio Che caricherò Sul mio canale Perché Da oggi in poi Romperò il telefono Cioè Questo sarà un telefono Rotto Perché lo userò Solo per Per sfogarmi Quando devo tirare A pugni A calci Di qualcosa Eh vabbè Tu sei proprio Scema Scema Hai problemi Nel cervello Allora Eh no Si può fare I cazzi suoi Mi è arrivato Un messaggio Da parte Del telefono Che si Sce Che memoria Si sta Usavrendo Ma a me Sai quanto Me ne fotte Di questo Fatto Ah Quanto ci godo Al momento Devo scappare Perché questa È troppo forte Eh no Devo scappare Non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio Si muoio Si ma io che sono qua Invece di romper i coglioni A me Vai a killare Quello Eh Tu vai nella Sif Bravo Esci Tu sei là dietro Mi dispiace Se guarda Porco Demonio Santo Basta Ultima partita Ogni partita Di questa serie Ragazzi L'ultima partita La devo fare Per forza Ma proprio Obbligatoriamente Con pocio Mi sape Mi sape Mi sape Per forza Ag Hirsi Ad No, 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 no. No, 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 no. Eh dai, ma perché proprio a me? Perché? No, no, no. Io il video non lo chiudo finché non esce fuori una partita buona. E' giocata bene, cavolo. No, 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 no. Vaffanculo! 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 te lo do io la botta la botta di culo 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 la botta di culo